Si sono conclusi sabato scorso gli stati generali del turismo voluti dalla regione Calabria dove sono stati ascoltati gli operatori turistici e le parti istituzionali. Confcommercio Calabria, sulla base delle indicazioni ricevute dai propri associati, ha realizzato un documento contenente le proposte per il rilancio del turismo nella nostra regione. La prima cosa che noi abbiamo chiesto è le regole, quindi un testo unico del turismo. Siamo senza un testo unico del turismo da anni, principalmente le regole. Poi in realtà noi abbiamo dato anche delle indicazioni, cioè promuovere in qualche modo la Calabria di quelle che noi abbiamo già, prima di inventarci chissà che cosa. La cosa che è strana a noi è che per andare a Bolzano dalla stessa Roma ci si impiega 5 ore. Da Roma a venire da noi, ormai con i treni sono tre ore, un aeroporto di Lamezzo è collegato con tutta Italia. Ecco, iniziare a promuovere che non è vera per arrivare in Calabria ci vuole così tanto. E quindi noi abbiamo dato una serie di indicazioni anche sul turismo delle radici, che è molto importante su questo. Anche la Camera di Commercio di Cosenza ha promosso con l'università, con la professoressa Ferrari, che è presente l'unico studio sulle radici, è molto interessante su questo. Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha detto che sarà compito della Regione far venire i turisti in Calabria, però il resto lo dovranno fare le imprese. L'abbiamo ascoltato volentieri, abbiamo visto quello che loro hanno fatto nel programma. Devo dire che noi abbiamo detto alla nostra, insieme alle altre organizzazioni, e loro ci hanno presentato il loro programma. In qualche modo si devono essere completate quelle che abbiamo detto noi. Ma a noi sta bene, l'importante è che si faccia adesso. Adesso abbiamo avuto delle comunicazioni, va bene anche quelle che hanno detto in realtà, però adesso facciamolo, facciamoli i fatti, non possiamo più attendere. Il turismo è in ginocchio, non soltanto in Calabria, è un po' ovunque.